Dopo le contestate UTI bocciate a Duino e ancora in bilico a Trieste e la raccolta di firme per la città metropolitana del senatore russo, ecco che riappare in campo il terzo incomodo nel dibattito sul futuro orfano delle province. Il nome in codice è referendum Grande Friuli e Trieste, l'agente per nulla segreto che lo ripropone e il presidente della provincia di Udine, il leghista di ferro Fontanini, che inevitabilmente perderà il suo scranno di potere sulla terra della Marilenge. Nell'Europa delle piccole patrie anche il Friuli si è determinato nel difendere la sua identità sostenendo l'iniziativa referendaria per l'istituzione di due aree autonome, il Grande Friuli e Trieste. Questa è la sua dichiarazione consegnata oggi a Lanza, parole pronunciate all'indomani delle elezioni in Catalogna che hanno registrato il successo degli indipendentisti, un grande risultato stando a Fontanini per i piccoli popoli europei dopo quello del Scottish National Party della scorsa primavera. Torna insomma il concetto dell'identità friulana da una parte e di quella giuliana dall'altra, da far corrispondere ai due futuri soggetti di governo di area vasta. Nel disegno geografico del friulanista, lo ricordiamo, la regione verrebbe spartita in due, il Grande Friuli, da Udine a Pordenone sino a ricomprendere la città di Gorizia, mentre la bisiacaria rimarrebbe nell'orbita triestina. Non certo del parere di Fontanini, il governatore Saracchiani, che dopo aver commentato negativamente quanto è successo in Catalogna, affermando che la frammentazione non crea certo un vantaggio, ha fatto intendere di non sposare la linea del presidente della provincia di Udine. Sullo sfondo però rimane una domanda centrale, ma se davvero le province erano così inutili e costose, perché questa smania bipartisan di rimpiazzarle con altri entri? Forse perché verrebbero a mancare delle poltrone profumatamente retribuite? Forse perché verrebbero a mancare delle poltrone profumamente?